Controllo qui Delta-1, Delta-2 si sta occupando dei feriti e del recupero. Il conservatorio è ok? Per quel che ne so, sì, Delta-1. Allora andiamo là. Merda. Jack, apri questa porta. Beh, sai che vuol dire? Sì, lo so. Troviamoci un riparo. Troviamoci un riparo. E' finito. Troviamoci un riparo. Troviamoci un riparo. Boomer! Eh, capri subito quella porta. Controllo, dimmi che quei satelliti sono in posizione. Affermativo. Ok, allora... Dom, siamo il martello! No ha, capri subito. Improvazione dispersonata. No ha, capri subito. Non lo so, cer— Non lo so, canta ci rai. Tom. Bene, e ora? Baird! Qui è un casino, ci sono nemici dappertutto Ci vediamo di mezzo Ricevuto, state attenti, ci vediamo alla casa Questa giornata non finisce mai Ah, almeno in prigione mi davano un po' di sbobba Questa giornata non finisce mai Questa giornata non finisce mai Berserker, prova ad aggirarlo e fai piano Dobbiamo usare il martello Ania, Berserker, un satellite Affermativo No, ci serve il segnale Questa giornata non finisce mai Questa giornata non finisce mai Questa giornata non finisce mai Speriamo di non doverlo rifare. Già, per... Capito. Sono munizioni. Eliminatelo! Vai! Ricarica. Avete! Ami in i dati. Vai! Ho preso un altro! Granata! Boom, baby! Paddy! Guarda! Nem assist. Io ho preso un altro! Ataka! Granata! Ho preso uno! Bene così! Fuori, antiterra! Brugia! Sanguina! Eliminatelo! Merda! Nemico! Granata! Attenzione! 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 A presto! Fleck! Orisa! Pronta a combattere! Pronta a combattere! Head on! Attacca! Sto con te! Eh, vai! Ho preso uno! Boomer! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Bene E vai Sofri 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 E ho preso uno Vai Andranno bene Bani L'ho preso uno Sofri 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 Di sopra tutto a posto. Baird, com'è messo l'APG? È messo uno schifo. Il disco della frizione è rotto. Dovrò levare il volano. Ehi, Baird. Smettila! Riparalo e basta. Va bene, ho capito. Sì, sì. Hai sentito? Deve essere un altro buco. Ingeta mia. Brotto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Andranno bene. Sì. Quella è la cantina. Andiamo. Ne vedo due. Granolta. Silenzio. Ehi, qui è tutto a posto. Dannazione. Affatti la bocca, Cole. Oh, scusa, baby. Altre tremori. Non possiamo farci niente. Muoviamoci. Andranno. Andranno. Grazie a tutti. Guarda. Mi sa che l'abbiamo trovato. L'APC funziona. Stiamo entrando. Ricevuto. Marcos. Elocuste smettono di scavare solo per un motivo. Controlla le munizioni. Merda. Eccoli. Vieni rilontano da Jack. Ero noto. E vai! Un verme è andato. Ero noto. Ero noto. Ero noto. Marcus è aperta. Jack, collegati e vedi che riesci a trovare Va bene, Ania Sto caricando i dati Ma restate in attesa Cosa sono? Tunnel delle Locuste Sembra impossibile Non possono esserci così tanti tunnel Sembra un mito d'api Ce ne sono una marea in tutto il pianeta Sono dappertutto Allora diciamo che con questi dati la missione è conclusa, giusto? Certamente Allora andiamocene da qui Kania, estrai i dati Non posso, i file sono troppo grandi Allora li portiamo con noi Jack, scarica i dati Confermo, ma ci vorrà un po' Ragazzi, qua su c'è sempre una guerra in corso Venite qua su, ok? Dateci la vostra posizione Avanti alla casa, secondo piano, presto Arriviamo subito Bene Ho preso un altro Attenzione Siamo al secondo piano Ci servono rinforzi Sì, wow Fatti sotto, strozzo Così mi piace Davvero? Subito Andiamocene Ti seguo Le opuste sono nel cortile Venite qua su, ok? Mano di terra Abiazzi! 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 Oợi! Abiazzi! Siere Grazie a tutti. A casa, secondo piano. Presto! Ma guarda chi si vede! Le locuste sono là fuori! Ma è così! Paul e io andiamo a proteggere l'ABC. Voi aspettate a Jack. Tenetemi lontani dalla casa. Attacca! Sobri! Granata! Guarda! Guarda di terra! Stop! André locuste sul retro della casa! Epa! E vai! Sparco! Granata! No, nazione! Capito! Sparco! Sparco! Bene! Marcus! Jack ha tutti i dati! Tutti alla PC! Subito! Quello che ho riparato è io, grazie! Grazie! Sei a posto! Buono gioco! La bestiaccia! Ornatene sottoterra! Cos'era? Forza! 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 Brumat! Via! Biomat! Mavericks! Niac! Niac! Grazie a tutti.